Ciao a tutti e bentornati a pillole di storia con pop italia Oggi ci sarebbe dovuto essere la pillola sulla seconda guerra mondiale Ormai i problemi per la sua pubblicazione sono diventati cronici E per non saltare un giorno di pillole, visto che già ieri c'è stato il video riassunto sulle traduzioni Ho deciso di fare pubblicare la pillola che sarebbe dovuta uscire giovedì Quindi se tutto va bene, se riesco a metterla a posto, YouTube accetta il caricamento La pillola sulla seconda guerra mondiale arriverà giovedì al posto di questa Adesso vedremo un attimino come si aggiusteranno le cose Oggi però inizia una nuova piccola miniserie che durerà solo poche puntate Uscirà nelle prossime settimane e sarà dedicata ai conflitti arabo-israeliani O meglio ai conflitti principalmente tra palestinesi e israeliani Che ovviamente conterranno al loro interno gli scontri anche tra tutti gli stati arabi Che circondano quella che è un tempo la palestina mandataria Oggi iniziamo ovviamente questo racconto parlando proprio dei primi scontri Di quello che avvenne quando la palestina da un mandato britannico divenne una nazione autonoma Con tutte le sue difficoltà, la sua divisione tra una palestina e israele Ma di questo ne parleremo mano a mano e parleremo ovviamente della guerra del 1948-1949 In descrizione trovate il link alla playlist con tutte ovviamente le pillole dedicate a questa miniserie Che andranno a comporsi ovviamente nelle prossime settimane Se non volete perdervele iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella Per essere sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video Da dove cominciamo? Beh cominciamo ovviamente spiegando qual era la situazione della palestina quando tutto questo iniziò Uso il termine palestina e non il termine israele perché quando inizia la nostra storia alla fine dell'ottocento Questo era il nome delle terre su cui si combatteranno le guerre di cui parleremo La palestina alla fine dell'ottocento faceva parte dell'impero ottomano Era abitata principalmente da arabi palestinesi Ovviamente arabi che prendono il nome dal fatto di vivere in palestina Da una piccola percentuale di cristiani, molto inferiore rispetto a quella degli arabi E da un ancora più piccolo e incredibile di elogi percentuale di ebrei Che erano una minoranza, una nettissima minoranza della popolazione Anche perché nel corso dei secoli avevano lasciato quella che un tempo era la loro patria Dove un tempo sorgeva il regno di Israele Vuoi perché si erano trasferiti in terre più ricche, in Europa, poi anche dall'altra parte dell'oceano Vuoi perché erano dovuti fuggire da una terra in cui molti dei popoli che si erano succeduti nella sua dominazione Li avevano più volte discriminati, scacciati, talvolta uccisi e costretti ad andarsene via Le cose alla fine dell'ottocento però iniziarono a cambiare Iniziò a svilupparsi un movimento in Europa chiamato movimento sionista Che prevedeva proprio il ritorno degli ebrei dall'Europa, dal nuovo mondo in Palestina Per creare nuove comunità, per creare comunità sempre più grandi, vere e proprie città E un giorno avere magari un proprio stato in cui vivere liberi Così come era stato ai tempi del regno di Israele Qual era il processo che si era messo in atto? Cosa faceva? Questa associazione, che era un'associazione ovviamente che riuniva sotto di sé Moltissime famiglie, popolazioni ebraiche sparse in tutto il mondo Acquistava terreni in Palestina Lo faceva acquistandolo da privati Lo faceva acquistandolo talvolta dallo Stato E affidava quei terreni a famiglie che volevano trasferirsi lì L'arrivo di queste famiglie in terreni fino a quel momento Abitati dalle popolazioni arabe iniziò a creare malcontento Non tanto per l'immigrazione che stava facendo crescere il numero di ebrei Ovviamente facendo diminuire la percentuale araba Ma perché l'acquisto di questi terreni iniziava a creare degli scontri Tra le popolazioni che già vivevano lì E che si vedevano private anche del loro sostentamento Perché? Perché per farsi affidare questi terreni Gli ebrei dovevano impegnarsi a non subaffittarli a non ebrei Quindi non potevano farci lavorare degli arabi E soprattutto a non cederli ad altri arabi L'acquisto di numerosi terreni, la formazione di veri e propri villaggi Talvolta chiusi, i famosi kibbutz ebraici Tendeva a separare comunità arabe che vivevano lì magari da secoli Toglieva loro fonti di sostentamento Strappava letteralmente loro la terra da sotto i piedi Le cose andarono poi ad aggravarsi dopo la fine della prima guerra mondiale Immagino che tutti voi lo sappiate Alla fine della prima guerra mondiale l'impero ottomano venne sconfitto Alcuni dei suoi territori divennero autonomi Ad esempio nacque il regno dell'Arabia Saudita Il regno di Giordania, l'Iraq Altri territori invece dopo gli accordi di Sanremo del 1920 Vennero affidati ad alcune delle potenze vincitrici In particolare Libano e la Siria Divennero stati mandatari della Francia Mentre invece la Palestina Divenne uno stato mandatario del Regno Unito Quindi nei fatti la Palestina Divenne un territorio controllato Non proprio una colonia Più un territorio sotto il controllo del Regno Unito Lo scopo era ufficialmente quello di preparare La nascita di una nuova democrazia in quei territori In territori che non erano mai stati democratici Ma era ovvio che era una forma di colonialismo mascherato Negli anni in cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna Dominava la Palestina Il trasferimento di ebrei dall'Europa fino in Palestina Tendette a crescere Cresceva perché proprio gli inglesi iniziarono a dare dei vantaggi a coloro che si trasferivano lì A spingere per questi trasferimenti Perché per loro il trasferimento di popolazione occidentale, popolazione europea Che fosse di religione ebraica oppure cristiana Non era importante Era un modo per rafforzare il controllo sul territorio Anche perché se questa popolazione, almeno all'inizio, non aveva nessuna intenzione di chiedere l'autonomia Ben diverso si muovevano invece le popolazioni arabe Che fin dall'inizio avevano iniziato a rifiutare questo stato di cose E a chiedere espressamente che si decidesse per un termine ultimo per questi mandati Un termine entro il quale lo stato palestinese, come la Siria e come il Libano, sarebbero dovuti tornare autonomi Mentre cresceva la popolazione ebraica, iniziarono ad esserci i primi scontri Da una parte, gli arabi iniziavano ad attaccare alcuni degli insediamenti ebraici Peraltro molto spesso respinti proprio dall'esercito inglese Che iniziava a parlare, una volta terminato il mandato, della nascita di due stati Uno per Israele e uno per la Palestina Cosa che ovviamente era fortemente rifiutato proprio dai palestinesi Dall'altra parte, in seno alle popolazioni ebraiche, nacquero dei movimenti militari Ufficialmente movimenti di autodifesa, così era il principale, cioè la Gana Da cui però si staccarono dei movimenti apertamente terroristici Che cercavano di aiutare la nascita dello stato di Israele Danneggiando, distruggendo, impaurendo e alla fine scacciando Le popolazioni arabe intorno ai territori israeliani stessi E questi movimenti ad esempio erano l'Irgun e la cosiddetta Banda Stern Le cose ovviamente man mano che la popolazione ebraica aumentava Tendevano a peggiorare La popolazione ebraica aumentò sempre di più Soprattutto dalla metà degli anni 30 in poi Dato che con la comparsa delle discriminazioni in Europa Sempre più persone si trasferivano in Palestina Per sfuggire ovviamente a questi problemi Gli scontri aumentarono a tal punto che nel 1939 Le autorità inglesi emanarono il cosiddetto libro bianco Che poneva un serio limite all'immigrazione ebraica in Palestina Questo libro bianco in realtà ebbe effetti veramente minimi Vuoi perché scoppiò la guerra Quindi la cosa divenne meno controllata Vuoi perché in realtà l'immigrazione continuò E continuarono ad aumentare i numeri di ebrei in Palestina Solo che divenne un'immigrazione nascosta Un'immigrazione fatta di immigrati, come diremmo oggi, irregolari Le cose alla fine della guerra, alla fine del 1945 Tesero ad aumentare Vuoi perché i freni sull'immigrazione diminuirono Vuoi perché ovviamente molti stati iniziarono ad appoggiare Questa fuga degli ebrei che si erano salvati dall'olocausto Che dall'Europa si trasferivano in Palestina Vuoi perché sempre di più le organizzazioni ebraiche in Israele Come iniziavano a chiamarlo Aumentavano la loro forza e gli scontri Che causavano ovviamente con le popolazioni arabe Nel 1947 venne creata una commissione in sede all'ONU Che avrebbe dovuto creare un piano Per quando il mandato sarebbe finito Inizialmente la fine del mandato inglese Del mandato della Gran Bretagna Era previsto per il 1949 Ma la stessa Gran Bretagna Aveva chiesto di anticipare al 1948 Perché ormai stava subendo troppe perite a causa degli attentati Che fossero arabi, che fossero israeliani Perché il costo anche economico di controllare quelle terre Stava aumentando sempre di più E perché ormai era ben chiaro Che non avevano più alcuna possibilità di pacificare il territorio Il piano che venne creato prevedeva la divisione del territorio in due parti Da una parte sarebbe sorto lo Stato di Israele Che sarebbe stato composto da varie zone unite Da piccoli corridoi, per il resto separate fra di loro Che componevano quasi il 56% del territorio della Palestina mandataria Ciò che rimaneva del territorio sarebbe invece stato in mani arabe Tranne la città di Gerusalemme e tutti i territori intorno La quale sarebbe dovuta rimanere sotto controllo dell'ONU In una zona demilitarizzata E né sotto il controllo arabo né sotto il controllo israeliano La cosa non piaceva a tutti Piaceva forse in parte alle comunità ebraiche più tranquille Meno propense allo scontro Ma non piaceva a coloro che invece facevano parte Delle formazioni terroristiche che avevano lottato fino a quel momento Non piaceva all'Irgul, non piaceva alla banda sterne Che invece pensavano e volevano la nascita di una grande Israele Che comprendesse anche la città di Gerusalemme La cosa ovviamente non piaceva agli arabi E non gli piaceva anche per una motivazione prettamente numerica Basti pensare che nei territori assegnati agli arabi Questi erano più del 90% della popolazione In realtà gli ebrei erano pochissimi Non solo, ma gli arabi erano anche la netta maggioranza Nei territori di Gerusalemme Quindi quelli che sarebbero dovuti rimanere all'ONU E incredibilmente gli arabi erano quasi il 50% Anche della popolazione del territorio Che era stato assegnato alla nascita di Israele Questo perché ovviamente Se il piano prevedeva il 56% agli israeliani E il resto agli arabi In realtà gli arabi erano molto, molto, molto più numerosi Più di due volte di quanto fossero gli israeliani Perché allora era stato pensato un piano di questo tipo? Beh, le motivazioni possono essere molteplici Ufficialmente perché si pensava che l'immigrazione Con la creazione di uno Stato di Israele Sarebbe aumentata a dismisure Quindi si davano delle terre in più agli israeliani Affinché potessero continuare a colonizzarle Dall'altra parte alcuni fanno notare Come i movimenti di opinione ebraici in America Avessero fatto forti pressioni sul governo Affinché fossero proprio gli Stati Uniti E non più la Gran Bretagna A imporre questa nuova visione Quando il 29 novembre 1947 Viene votata ufficialmente la risoluzione Che dovrà dividere nel 1948 Il territorio in due Stati I primi a ribellarsi sono gli arabi Si sono degli attacchi contro dei gruppi di ebrei Ci sono dei morti Ci sono tre giorni di sciopero generale Di rabbia, di proteste A Gerusalemme In cui vengono bruciati dei libri sacri ebraici E presto iniziano i morti Ovviamente gli israeliani non stanno ad osservare I loro movimenti più forti Iniziano anche loro a una vera e propria stagione di terrore In cui vengono attaccati britannici Soldati o diplomatici In cui vengono attaccati villaggi e arabi Con lo scopo di spaventare la popolazione Per farla fuggire Viene emanato, diffuso il cosiddetto piano Dalet Dalla D che sarebbe la lettera dell'alfabeto ebraico Il piano Dalet Secondo quello che è più noto agli storici Prevederebbe una serie di attacchi Terroristici Nel vero senso della parola Per spaventare le popolazioni arabe E costringere e spingerle a fuggire Di modo da allontanare dai territori israeliani Affinché i nuovi ebrei potessero insediarvisi Ma anche per allargare i territori dello Stato di Israele Tra il novembre del 1947 e il primo aprile 1948 Più di 400 arabi vengono assassinati Circa 420 E quasi 400, 390 circa ebrei Subiscono la stessa sorte Oltre a una cinquantina di inglesi La cosa ovviamente sta sfuggendo da ogni controllo Nell'aprile del 1948 avviene il cosiddetto massacro di Deir Yassin Un villaggio arabo che si trovava sulla linea tra Tel Aviv e Gerusalemme Una linea che gli arabi avevano occupato Fino ai primi giorni di scontri Per tagliare in due le principali comunità israeliane Viene attaccato Secondo quello che viene raccontato Inizialmente solo pochi arabi vengono uccisi Mentre gli altri si tenta di cacciarli dal villaggio Quando però alcuni di questi si ribellano E secondo quello che dicono le fonti israeliane Aprono il fuoco Le truppe dell'Irgun, della banda sterna lì presente Massacrano quasi tutti i presenti Che siano uomini, che siano donne, che siano bambini Esiste poi una versione araba Sono entrambe non provabili Quindi ve le lascio entrambe Che dice che in realtà non vi fu nessuna reazione da parte araba E che il massacro era già stato preventivato fin dall'inizio Quel che è certo, perché è stato raccontato dai protagonisti Questo massacro verrà sfruttato a fini propagandistici Proprio dagli israeliani Stessa cosa che cercheranno di fare gli arabi Che pochi giorni dopo attaccheranno Un convoglio medico israeliano Uccidendo 77 uomini Tra medici, infermieri E soccorritori in generale Morti da una parte Morti dall'altra Il 15 maggio 1948 Era prevista la nascita dei due stati Ma già il 14 maggio, il giorno prima Israele dichiara la sua nascita Subito riconosciuto dalla maggior parte degli stati occidentali Stati Uniti e Unione Sovietica in testa La cosa non coglie impreparata la lega araba Che già negli mesi precedenti Aveva più volte protestato all'ONU contro questa scelta E che subito dopo la dichiarazione di indipendenza di Israele Invierà 25.000 uomini Provenienti da tutti gli stati vicini Egitto, Siria, Giordania, Iraq, Libano Ad attaccare lo Stato di Israele Per cercare di salvare Questo dicevano loro La comunità araba L'attacco fin dall'inizio ha grossi problemi A differenza dell'esercito Ormai in NATO Non esistono più questi piccoli gruppi Ma nasce un vero e proprio esercito Una forza di difesa israeliana Per il nuovo Stato A differenza dell'esercito di Israele Che fin dai primi mesi di scontri Aveva man mano aumentato la sua forza Anche grazie all'acquisto di armi Tra cui anche aerei Giunte peraltro principalmente dalla Cecoslovacchia Le forze arabe si erano via via consumate Sia quelle palestinesi Che fin dall'inizio si erano dimostrate Non all'altezza di quelle israeliane Anche perché composta in massima parte Da uomini che in realtà Facevano tutt'altro che i soldati nella vita Ma anche le forze della Lega Araba Che attaccheranno da direzioni diverse Ognuna con poca coordinazione E con risultati pessimi In realtà gli unici risultati all'inizio Vennero colti dalle forze della Giordania Le quali entrarono a Gerusalemme Riuscirono dopo duri scontri A cacciare le forze israeliane Che erano penetrate nei quartieri arabi E addirittura a scacciare gli israeliani Dalla città vecchia Questi purtroppo per la Lega Araba Furono però i loro unici successi Gli egiziani vennero ben presto fermati Nella loro avanzata a sud Stessa cosa avvenne ai siriani Che nonostante l'uso di carri armati Furono bloccati da alcuni kibbutz Situati sul confine In cui gli israeliani lottavano letteralmente Con piccole armi Contro le forze corazzate siriane Peraltro con ottimi risultati Man mano che questi scontri crescevano Come detto Le forze israeliane aumentavano Se all'inizio Ad esempio Gli aerei della Lega Araba Avevano la netta superiorità nei cieli Ben presto Grazie all'acquisto di aerei Che giungevano dalla cecoslovacchia Ed è strano pensare Erano prodotti Su un modello simile Al Messerschmitt Bf 109 I primi giunsero ad agosto del 1948 Grazie all'arrivo di questi aerei Ben presto Anche la superiorità aerea Fu nelle mani degli israeliani Fa un po' ridere Gli israeliani Combattevano con evoluzioni Gli aerei nazisti Mentre invece gli arabi Combattevano con Aerei inglesi Spitfire e Hurricane Queste sono le stranezze della storia L'11 giugno 1948 L'ONU si impone Impone una tregua di 28 giorni Per dare tempo al suo inviato Cioè a Folk Bernadotte Di trovare una nuova sistemazione per lo Stato Bernadotte propone una nuova divisione Su base maggiormente geografica Meno etnica del territorio Divisione che viene però rifiutata Sia da una parte che dall'altra Con il risultato che l'8 luglio Gli egiziani daranno il via ad un nuovo assalto Per dieci giorni si torna a combattere Gli israeliani ancora una volta Nonostante il primo attacco sia giunto dall'Egitto Passano al contrattacco Contrattaccano a sud Dove riescono a respingere gli egiziani Contrattaccano sulla strada Tatella vive Gerusalemme Dove seppur con tanta difficoltà Soprattutto nel villaggio di Lotrun Dove gli arabi riusciranno a fermarli per molti giorni Riusciranno ad aprire una nuova strada Tra le due città e quindi a far affluire Rifornimenti a Gerusalemme Combatteranno anche proprio intorno Alla città santa Dove riusciranno a riconquistare Gran parte dei territori Intorno alla città Ponendo la parte araba Letteralmente sotto assedio Dopo dieci giorni Ci fu un nuovo cessate Il fuoco Ancora una volta Bernadotte Cercò un accordo Ancora una volta venne creata una mappa Che avrebbe dovuto assicurare la pace Ancora una volta nessuno dei due contendenti L'accettò L'unico risultato fu che lo stesso Folk e Bernadotte Venne assassinato Dalla banda sterna Quindi dagli israeliani I quali lo assassinarono Per porre fine definitivamente A qualunque possibilità di accordo La ripresa della guerra Al termine della tregua Questa volta sarà definitiva E gli israeliani ormai Volgeranno al contrattacco su tutti i fronti Tra marzo e luglio del 1949 Batteranno e costringeranno Alla resa A stipulare una tregua Tutti gli stati che li avevano attaccati A cominciare dall'Egitto A continuare con il Libano La Cisjordania E a finire con la Siria Queste tregue Nei fatti lasciavano i palestinesi Abbandonati a loro stessi Abbandonati a quel piano Che prevedeva la loro espulsione Dai territori israeliani Affinché quei te non vi fossero più scontri E questo fu esattamente quello che successe L'ONU si dimostrò assolutamente incapace di intervenire Israele alla fine della guerra Si fece riconoscere dagli stati vicini Al momento della stipula della tregua Un territorio molto più grande Di quello che gli era stato assegnato dall'ONU Nella cosiddetta linea verde Tutti i territori che gli israeliani avevano conquistato Con l'eccezione di Gaza Da cui sgomberarono Gli furono assegnati Quasi il 78% rispetto al 56% iniziale Dei territori della Palestina mandataria Ciò che rimaneva in mani palestinesi Venne assorbito negli anni successivi dagli stati vicini L'Egitto si annesse Gaza La Giordania si annesse la West Bank La Cisgiordania I palestinesi si trovarono improvvisamente senza una casa Quasi 700.000 di loro furono costretti a fuggire Dai territori in cui loro e loro antenati avevano abitato per secoli Fuggire dai territori che ora facevano parte di Israele In cui erano discriminati In cui erano letteralmente cacciati Per fare spazio a nuovi coloni Fuggire nei paesi vicini Il Libano, l'Egitto, la Giordania Che però non avevano nessuna possibilità di accogliere Con il risultato che nacquero degli enormi campi profughi In cui la popolazione palestinese si trovò a vivere E in cui ancora oggi in parte vive La prima guerra arabo-israeliana Aveva sancito una netta vittoria di Israele Ma non erano state stipulate delle paci Israele non era riconosciuto da nessuno degli stati vicini Nessuno degli stati vicini aveva voluto stipulare niente più che una tregua Un riconoscimento della forza di Israele Non un riconoscimento dello Stato Ben presto gli scontri sarebbero ripresi Ma ne parliamo nella prossima puntata Spero che questa vi sia piaciuta Io come al solito vi ricordo di essere curiosi Perché la storia del mondo là fuori È piena di avvenimenti e storie fantastiche Storie incredibili Che nessuno scrittore e nessun regista Avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere E se volete iniziare a curiosare Qua al fianco C'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso Ci vediamo domani con un'altra pillola Spero vi piaccia A domani Ciao ciao